Buona serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che porta avanti la seconda parte della trasmissione Magia-Stragonaria-Paganesimo. In questa seconda parte, come le altre volte, noi parleremo del libro dell'Anticristo. Andremo avanti con la fondazione della libertà, la terza parte del libro dell'Anticristo. Questa sera parleremo dell'attenzione. Il trattato sull'attenzione è un trattato fondamentale del libro dell'Anticristo perché dall'uso dell'attenzione dipende come noi ci rapportiamo davanti al mondo e quante energie ci mettiamo e quante energie del mondo riceviamo. Pertanto, il trattato sull'attenzione è un trattato centrale del libro dell'Anticristo. Non è possibile prescindere da questo. E' un trattato centrale anche nella formazione della stregoneria. Cioè, la stregoneria può manipolare le cose soltanto attraverso l'attenzione. L'attenzione che viene coinvolgata dall'individuo rispetto all'oggetto con cui entra in relazione. Se usassimo la terminologia kantiana dovremmo parlare di due tipi di attenzione. L'attenzione dell'intelletto e l'attenzione della ragione. Con l'attenzione dell'intelletto affronteremo le questioni della libertà, mentre con l'attenzione della ragione affronteremo la natura. Se usassimo la terminologia taoista, si dovrebbe parlare di attenzione del tao e attenzione del quotidiano. Con l'attenzione del tao ci faremo compenetrare dal tao e col silenzio del tao modelleremo l'attenzione nel quotidiano. Se si usasse la terminologia kantiana, si dovrebbe parlare di due tipi di attenzione. L'attenzione del tonal e l'attenzione del nagual. Con l'attenzione del tonal ci si rapporta nel quotidiano. Con l'attenzione nello sconosciuto nagual trasferiremo gli elementi dello stesso dal nagual al tonal allargando l'isola dell'azione nel quotidiano. Che cos'è l'attenzione? È la capacità di convogliare i sensi dell'essere umano nella percezione di un oggetto o di aspetti di esso, o se vogliamo alla kantiana, nella percezione di fenomeni specifici riguardanti l'oggetto considerato, oppure, ancora, percezione di fenomeni come oggetti. Quando l'attenzione riguarda i sensi si può parlare di vari tipi di attenzione. In questo momento consideriamo l'attenzione nel quotidiano. Nessuno nella società attuale insegna ad un essere umano in crescita l'uso e l'importanza dell'attenzione. L'essere umano adulto non considera l'attenzione importante se non quando deve trasformare gli individui in schiavi inchiodandoli ad un fare atto a sottometterli. Gli schiavi e gli schiavi salariati sono individui la cui attenzione è stata inchiodata nel fare quotidiano, delle proprie mansioni. L'abitudine alle mansioni impedisce alla loro attenzione di spostarsi dal fare quotidiano ad altri aspetti dell'esistenza. Gli schiavisti, di ogni ordine e grado, possiedono un'attenzione inchiodata nella rapina del fare degli schiavi, dunque schiavi a loro volta. Tutta la loro attenzione è volta a procurarsi e mantenere il vantaggio sugli schiavi o altri schiavisti, a loro sottomessi, incapaci di spostare la loro attenzione ad altri elementi del fare. I loro figli cresceranno a loro immagine e somiglianza. Ogni contrasto generazionale, quelli comunemente definiti contrasti fra generatori e figli, altro non sono che i momenti in cui questi ultimi ingabbiano l'attenzione dei primi o tendono a farlo, mentre questi si ribellano nel tentativo di spaziare l'attenzione in tutti i lati dell'esistente. Ingabbiare l'attenzione di un individuo è sempre una guerra, in quanto l'attenzione rappresenta il rapporto fra soggetto ed oggettività circostante, e un'attenzione bloccata è un rapporto bloccato. La coscienza della mancanza di qualcosa nella percezione dell'esistente è momento di insoddisfazione e della maggior parte delle crisi psicologiche degli individui. Ogni contrasto sociale deriva dal fatto che alcuni soggetti vorrebbero estendere la propria attenzione su alcuni oggetti dell'esistente e, con questo, modificare il proprio fare per aumentare il proprio potere di essere. Altri soggetti vogliono bloccare l'estensione di tale attenzione, limitare la percezione degli oggetti, ingabbiare il loro fare, limitando così lo sviluppo del loro potere di essere. Questo per mantenere costante il proprio controllo sociale su un determinato gruppo di individui. Così facendo, costruiscono muri sempre più solidi. Ricordo sempre che non prendono le telefonate fin verso la fine dell'ora di trasmissione. Ogni contrasto sociale la propria attenzione su alcuni oggetti dell'esistente e, con questo, modificare il proprio fare per aumentare il proprio potere di essere. Altri soggetti vogliono bloccare l'estensione di tale attenzione, limitare la percezione degli oggetti, ingabbiare il loro fare, limitando così lo sviluppo del loro potere di essere. Questo per mantenere costante il proprio controllo sociale su un determinato gruppo di individui. Così facendo, costruiscono muri sempre più solidi, entro i quali chiudere l'attenzione di altri esseri umani. Questa operazione va sotto il nome di condizionamento educazionale. L'attenzione, altro non è che l'uso dei sensi nella percezione del quotidiano. Intendo i sensi nel modo classico del mondo occidentale. Attraverso questo distingo cinque tipi di attenzioni legati al mondo del quotidiano e cinque tipi di attenzione legati allo scontro sconosciuto dentro e fuori di noi. Che cos'è lo sconosciuto? È tutto quello che noi non percepiamo. Parlando alla Kant si direbbe che sono tutti i fenomeni degli oggetti che non percepiamo o non consideriamo come importanti o ancora l'essenza numerica dell'oggetto che non consideriamo in quanto i nostri sensi, egli dice, percepiscono i fenomeni dell'oggetto e non l'oggetto in sé che ci rimane estraneo. Se Kant percepisce l'esistenza dell'oggetto in sé come analogia del soggetto percettore dei fenomeni che considera un soggetto in sé, lascio per ora perdere il discorso sul senso interno e l'articolazione dello stesso, io, a differenza di Kant, conosco il divenire della percezione dei fenomeni, un tempo sconosciuti alla ragione ed oggi noti, variando così il concetto globale del giudizio formulato in precedenza sull'oggetto e, per analogia, posso ipotizzare l'esistenza di altri fenomeni relativi all'oggetto ora sconosciuti. I fenomeni di un oggetto sono certamente limitati nel numero e questa limitazione è dovuta all'oggetto stesso. Ancora più limitata è la nostra percezione dei fenomeni dell'oggetto, non solo per il tipo di sensi che disponiamo, ma soprattutto per il condizionamento educazionale cui abbiamo o hanno sottoposto i nostri sensi. Per inciso, si può affermare l'esistenza di altri sensi dell'essere umano, sensi non sviluppati, ma potenzialmente presenti come alcuni casi particolari sembrano dimostrare, anche se potrebbe trattarsi di un'estensione dei sensi considerati. Oltre ad uno sconosciuto, è ipotizzabile anche un inconoscibile. Per inconoscibile, ipotizziamo un oggetto la cui natura, e per conseguenza i fenomeni prodotti e da noi percepiti, è talmente diversa dalla natura del soggetto che i fenomeni emessi o non rientrano nella gamma dei sensi del soggetto o il soggetto non li riconosce come fenomeni relativi a quell'oggetto. L'inconoscibilità è l'incompatibilità fra il soggetto e l'oggetto. Come direbbe qualcuno, se il soggetto non percepisce i fenomeni di un oggetto o non li riconosce come fenomeni relativi all'oggetto, quell'oggetto per lui non esiste. Non esiste nel senso che i fenomeni non sono in grado di modificare la sensibilità del soggetto. Ciò che non è in grado di modificare, ora, la sensibilità del soggetto non significa necessariamente che non sia in grado di modificare la sensibilità del soggetto in un secondo tempo. C'è un esempio cui possiamo ricorrere nel mondo della ragione ed è la percezione del feto rispetto alla percezione dell'essere umano adulto. La percezione fetale ci è quasi sconosciuta, ma ad essa possiamo riferirci come momento iniziale del divenire dell'essere umano. Il mondo uterino di cui il feto è circoscritto filtra ogni impulso proveniente dal mondo esterno, lo attenua, lo altera fino a giungere alla percezione del feto. Questo è dimostrato. Inoltre il feto possiede una percezione della madre, rappresentante tutto il suo mondo, in una forma a noi estranea. Il feto possiede una percezione totale del mondo in cui vive, tanto da subire o reagire a modificazioni di stato d'animo da parte della madre. È la sua capacità di adattamento a quel mondo. La percezione fetale, anche se legata alla percezione dell'essere umano di cui rappresenta il divenuto dalla precedente, a prescindere dal condizionamento educazionale subito, è diversa, quasi estranea, alla percezione dell'essere umano. Adulto. La diversità consiste principalmente nel fatto che mentre l'essere umano percepisce il mondo circostante attraverso la mediazione dei sensi ed esercita l'attenzione attraverso essi, l'essere fetale percepisce il mondo circostante attraverso la totalità di se stesso. Egli e la madre sono due, ma sono anche uno. Sono due in quanto la madre, relativamente al mondo della ragione, in quanto esistono altri elementi che non voglio prendere in considerazione, percepisce il feto sia con i cinque sensi spostati dentro di sé, sia con tutta se stessa, in quanto il feto è una parte della madre che costruisce la sua autonomia. Com'è il mondo contenente l'individuo che costruisce la sua autonomia? Inoltre, il feto percepisce la totalità del suo mondo di cui è parte integrante e nei confronti del quale costruisce la propria autonomia. È cosciente di ciò? Solo il feto potrebbe descrivere, seppur in modo approssimato, la modalità della propria coscienza. Noi possiamo solo prendere atto del suo divenire, del percorso della sua formazione e concepire il divenire dei suoi sensi pur possedendo, in ogni istante nel suo sviluppo, la percezione del mondo che lo contiene. Da questo possiamo dedurre che il mondo reale del quotidiano è sconosciuto al feto. Anzi, per il feto è inconoscibile. I fenomeni prodotti dal mondo della ragione sono incompatibili con i sensi del feto. Non che questi o parte di questi non giungano al feto, anche se mediati dalle capacità percettive della madre e dalle sue capacità di giudizio, interpretazione, dei fenomeni stessi. Questi non sono riconosciuti direttamente dal feto come fenomeni riferiti direttamente all'oggetto che gli emette, ma come fenomeni provenienti dalla madre a cui imputa la produzione di quei fenomeni. Il mondo della ragione, inconoscibile per il feto, diventa sconosciuto per il neonato. Questi, esercitando i sensi sviluppatisi nella fase fetale e completando la loro specializzazione, a mano a mano che cresce, aumenta la percezione dei fenomeni identificando tali fenomeni con gli oggetti produttori dei fenomeni stessi. Gli oggetti saranno descritti sempre in base ai fenomeni percepiti relativi agli oggetti e, a mano a mano che varierà la gamma della percezione dei fenomeni relativi agli oggetti, varierà la loro descrizione e la scala di valori in cui l'individuo li collocherà nel suo quotidiano. L'essere umano viene educato a considerare se stesso come essere completo e definitivo, essere senza divenire. Pertanto, tende ad ignorare l'uso dei sensi come metodo di rapportarsi col mondo circostante e tende, una volta subito il condizionamento educazionale, a considerare tale situazione come naturale ed inevitabile. Al contrario, è proprio ad un determinato momento dell'età adulta, socialmente intesa, che per lui deve iniziare un nuovo percorso nell'uso dell'attenzione. I fenomeni percepiti sono limitati perché la funzionalità sociale di un individuo non è necessaria la percezione di un grande numero di fenomeni. Anzi, la percezione di un grande numero di fenomeni da parte di un soggetto può rendere questo soggetto socialmente pericoloso. Nello schema sociale lo schiavo salariato deve fare solo lo schiavo salariato, il poliziotto deve fare solo il poliziotto, lo schiavista deve continuare a fare solo lo schiavista. Nel momento in cui il soggetto sposta l'attenzione fuori dal proprio ruolo, automaticamente mette in discussione il ruolo stesso. Finché la critica è limitata, il comando sociale è in grado di assorbirla, ma quando la critica supera un determinato livello, l'individuo diventa pericoloso per il sistema stesso. L'attenzione circoscritta e limitata è la migliore garanzia per la perpetrazione dell'esistenza, sempre nel presente, del comando sociale. Ogni rivoluzione ed ogni innovazione ha come risultato nel sociale l'ampliamento dell'attenzione o, se vogliamo, porre alla percezione nuovi fenomeni e nuovi oggetti, sicché la descrizione risultante del quotidiano tende a variare. Un esempio di questo, in restrittivo, lo abbiamo quando storicamente l'uomo si apprestò a diventare allevatore con la cattura di un certo numero di pecore. Ad ogni generazione eliminava le pecore che meno si inconformavano al comportamento da lui desiderato. Dopo alcune migliaia di anni, poco più o poco meno, ottenne un animale piuttosto docile la cui attenzione risulta castrata. Il sistema percettivo del feto è perfettamente funzionale nel mondo in cui egli si trova ad esistere. Tale percezione è la base di sviluppo della percezione dell'essere umano. Il sistema percettivo dell'essere umano è perfettamente funzionale al proprio ruolo all'interno del sistema sociale in cui vive. Per questo motivo, il sistema percettivo dell'essere umano comune ha perso la capacità di sviluppo in quanto tale sviluppo porterebbe l'essere umano comune a un essere più funzionale del proprio ruolo all'interno del sistema sociale in cui vive. Tutto ciò sarebbe plausibile se la concezione del nulla al momento della morte del corpo fisico avesse una sua validità. Le religioni parlano di anima in grado di sopravvivere dopo la morte del corpo fisico. Quest'anima entrerebbe nell'essere uomo al momento della nascita. Non si sa bene per le donne in quanto a seconda delle epoche storiche questa in loro entra più tardi e pur venendo offesa da atti impuri o peccati non si modifica fino alla morte del corpo fisico. È quasi una carta di identità che l'essere umano si porta nell'aldilà con la quale giustifica il proprio comportamento. La visione è direttamente funzionale al comando sociale attraverso la quale egli esercita parte del proprio controllo sugli individui. Il dopo la morte diventa un mondo statico, un semplice asservimento ad un altro padrone, ad immagine e somiglianza del comando sociale esistente, oppure il nulla, fine della vita biologica e della coscienza. All'interno di questa concezione la percezione dei fenomeni è un meccanismo statico. Subito il condizionamento educazionale per l'individuo tale condizionamento diventa ovvio e blocco naturale dello sviluppo della percezione dell'individuo. Dunque l'individuo è ciò che è. Completo ne potrebbe essere diverso, così afferma il comando sociale. Pur ammettendo l'insoddisfazione di buona parte degli schiavi salariati ne demanda la soddisfazione nel miglioramento delle condizioni materiali. Se ciò fosse, già sarebbe un buon risultato. Il miglioramento delle condizioni materiali permette un più vasto raggio in cui la percezione può spaziare. Ma un comando sociale cede qualche cosa se non è certo di recuperare tutto il ceduto e con gli interessi. L'ipotesi di base è diversa. Il presupposto è la morte non come inevitabile divenire, ma come bisogno della specie umana e più in generale di tutti gli esseri viventi. In altre parole, il dopo morte del corpo fisico è il divenire dell'essere umano, dove la qualità del divenire dell'essere umano è direttamente proporzionale all'arricchimento ottenuto dall'uso della percezione mediante l'allenamento dell'attenzione nel corso della propria esistenza fisica. La percezione dei fenomeni dell'oggetto non è mai indolore. La percezione dei fenomeni dell'oggetto è sempre un rapporto dialettico. Se il soggetto percepisce l'oggetto, anche l'oggetto percepisce il soggetto. Se la percezione dell'oggetto condiziona il soggetto, anche il soggetto condiziona l'oggetto. Il rapporto di reciproco condizionamento è direttamente proporzionale alla capacità specifica del soggetto di incidere sull'oggetto e l'oggetto sul soggetto. Il soggetto percepisce l'oggetto attraverso i suoi fenomeni, come l'oggetto percepisce il soggetto attraverso i suoi fenomeni. Così, la mutua interazione può venire esclusivamente dalla quantità dei fenomeni percepiti. Solo la quantità dei fenomeni riferiti all'oggetto percepito sono in grado di descrivere, più o meno compiutamente, l'oggetto al soggetto. Si può affermare, al di là dell'utilità sociale dei singoli individui o dei loro interessi specifici, che le divergenze di critica rispetto ad un oggetto siano determinate dalla diversa quantità di fenomeni percepiti dai singoli soggetti. Inoltre, c'è l'elemento qualitativo, in grado di giocare un ruolo rilevante. Un soggetto percepisce un fenomeno da un oggetto e lo legge in modo diverso da un altro soggetto. Esempio, lo stesso odore percepito da un essere umano e da un essere lupo. Si dirà immediatamente che lo sviluppo del senso dell'odorato dell'essere lupo è più sviluppato del senso dell'odorato dell'essere umano. In realtà, è più esatto affermare che l'attenzione nel senso dell'odorato dell'essere lupo è meno condizionato o condizionato in maniera diversa dell'attenzione nel senso dell'odorato dell'essere umano. Lo stesso fenomeno viene percepito ed elaborato in modo diverso dei sensi, a seconda del loro grado di condizionamento della propria attenzione interna. Si può obiettare in quanto da sempre l'essere lupo allena l'attenzione nel senso dell'odorato, mentre l'essere umano cessò da molte generazioni di fare ciò impegnato in altre attività ed occupazioni. Proprio così avviene, almeno per buona parte. Il condizionamento educazionale di un senso attraverso il non uso dell'attenzione agente sul senso stesso. Anche se l'uso dell'assoluto rappresenta un errore, potremmo, con buona approssimazione nella descrizione del concetto, affermare che mentre nell'essere lupo l'attenzione nel senso dell'odorato non è condizionata, nell'essere umano questo condizionamento appare evidente. Il significato dato al termine condizionato non è quello sottoposto a condizioni, ma quello per cui le condizioni precludono o restringono. Si potrebbe usare il termine ristretto o limitato, ma questi termini danno solo un'idea spaziale. Non sono in grado di determinare contemporaneamente il concetto qualitativo e quantitativo della limitazione. L'essere umano non percepisce tutti gli odori percepiti dall'essere lupo, ristretto o limitato, ma quando percepisce gli stessi odori, questi come fenomeni assumono una valenza diversa a seconda che la percezione sia avvenuta da parte dell'essere umano o dell'essere lupo. Davanti a un pericolo percepito attraverso l'odorato, l'essere umano e l'essere lupo reagiranno in maniera diversa e questa diversa maniera di reazione sarà determinata dalla diversa attenzione posta all'interno del senso dell'odorato la quale, a sua volta, provocherà un diverso giudizio nei confronti dell'oggetto emettente quel fenomeno. Dunque, quantità dei fenomeni percepiti da un oggetto e capacità del soggetto di concentrare l'attenzione sui fenomeni mettendo in movimento il giudizio sugli stessi, descrivendo così l'oggetto o l'apparenza dello stesso desunta dai fenomeni percepiti. Si desume essere la realtà soltanto apparenza interpretativa del soggetto, a meno di non voler affermare, come fanno gli adoratori di dei, che essendo l'essere umano creato da qualche dio, egli è così perfetto e non ha un divenire. La morte del corpo fisico è l'ultimo bisogno dell'essere umano e di ogni altro essere della natura. La morte del corpo fisico è il fine della nascita, fine ultimo cui si giunge dopo una vita di trasformazione, fine inevitabile, e da questo fine si giunge attraverso la soddisfazione costante dei propri bisogni attraverso il vivere quotidiano. La morte del corpo fisico è il bisogno di tutti i bisogni. Perché è vissuta dall'essere umano in modo così traumatico? Nell'intera natura ogni essere, pur lottando per la propria esistenza, specie quando ha ancora molti bisogni di altro ordine da soddisfare o altre cose da fare, accetta la morte senza drammi né costrizioni. La vita riproduce continuamente se stessa e continuamente si adatta alle condizioni dell'ambiente trovato. Ogni essere vivente ha come obiettivo la morte del corpo fisico, o meglio, la morte del corpo fisico rappresenta il traguardo per ogni essere vivente. Tanti sono i modi attraverso i quali una coscienza di sé si avvicina all'appuntamento. Il feto ha il compito di crescere e di diventare sempre più forte, in modo da presentarsi all'appuntamento con la propria morte il più vigoroso possibile. Diventa il più forte possibile, anche a costo di succhiare la vita della madre. Quando giunge il momento della sua morte, si presenta alla nascita di un nuovo mondo, ma, per quanto gli è dato sapere, egli è morto. È morto nella misura in cui il mondo circostante non è più quello percepito in precedenza. I fenomeni percepiti sono riferibili ad oggetti sconosciuti. Forse rimpiange l'utero. I suoi sensi non sono ancora pronti per afferrare quei fenomeni, elaborarli e, attraverso essi, cominciare la descrizione degli oggetti. Perché dunque l'essere umano deve giungere all'appuntamento con la morte del corpo fisico, senza energie, finito, come succhiato? Il sistema sociale in cui vive si dà molto da fare per succhiarlo. È convinto che questa sia la sua funzione. Ma perché l'essere umano, in generale, non reagisce in qualche modo? Perché gli è stata insegnata la sconfitta attraverso il blocco della propria attenzione, e nello specifico di ogni attenzione relativa ai sensi. Mancando dell'esercizio della propria attenzione nella percezione, è costretto ad impiegare la propria energia con un numero limitato di fenomeni e l'elaborazione della descrizione attraverso un numero limitato di fenomeni diventa come un serpente che si morde la coda divorando se stesso. Solo che il serpente non è così stupido da perseverare in un'assimilazione. Questa è la condizione dell'essere umano comune, troppo impegnato a svolgere il proprio ruolo di schiavo. Illuso di essere padrone della propria immagine e somiglianza del proprio creatore finisce per distruggere la propria energia vitale ritrovandosi all'appuntamento con la morte del corpo fisico come un sacco vuoto. La morte diventa la sua disperazione, ne ha terrore, piange e si lamenta. Per lui la morte del corpo fisico è la fine di tutto e spesso la fine delle sue sofferenze. Scusate. C'è differenza. Andiamo avanti ancora un pochino fino all'arrivo dei sensi e poi ci fermiamo qualche minuto. C'è differenza all'interno del sistema sociale fra l'essere schiavo salariato o essere schiavo padrone di altri schiavi. Ma la disperazione davanti alla morte del corpo fisico per chi esaurì la propria energia vitale è uguale. Eppure sarebbe stato sufficiente allenare la propria attenzione o l'attenzione di almeno uno dei sensi. Come si allena l'attenzione della percezione dei singoli sensi? Bene, mi fermo qui in questo momento. Esattamente. Facciamo qualche secondo di pausa, mettiamo su due note. Se qualcuno vuole telefonare nel frattempo possiamo rispondere a qualche telefonata. Io in questo momento mi fermerò in questo punto perché il discorso sull'attenzione, che è ancora abbastanza lungo e si basa sull'uso dell'attenzione dei singoli sensi, è estremamente pesante sia per chi legge che per chi ascolta sicuramente. Riprendiamo la lettura. Eppure sarebbe stato sufficiente allenare la propria attenzione o l'attenzione di almeno uno dei sensi. Come si allena l'attenzione della percezione dei singoli sensi? Quando il problema soggettivamente si pone, il comando e il condizionamento educazionale socialmente indotto già ha fatto presa su di noi e da questo condizionamento non saremo mai del tutto liberi. È necessario analizzare la propria posizione all'interno del contesto sociale nel quale si vive, collocandosi in modo tale da poter soddisfare i propri bisogni senza essere costretti a dominare schiavi né ad essere eccessivamente assillati da qualche piccolo tiranno ammalato di morte. Una posizione, in ogni caso, tale da soddisfare tutti i bisogni di una persona media senza essere esposti a grandi privazioni, questo relativamente al sistema sociale specifico. Ogni sobbalzo sociale rappresenta un maggiore flusso di fenomeni, una diversa percezione degli stessi, pertanto un arricchimento della capacità di elaborazione del giudizio che, a sua volta, modifica l'attenzione della percezione dei sensi. Questi percepiscono nuovi fenomeni. Ogni sobbalzo sociale costringe il comando sociale ad elaborare nuovi e più sofisticati strumenti coercitivi attraverso i quali modificare a proprio vantaggio il condizionamento educazionale degli individui. L'attenzione dell'essere umano può essere scomposta. Ci sono cinque attenzioni relative ai cinque sensi e queste cinque attenzioni si possono esercitare sia nei confronti del mondo circostante sia all'interno di noi stessi. Ogni individuo ha un'attenzione risultante, l'attenzione propria della sua coscienza di sé, essenza numenica di ciò che egli è. L'attenzione risultante altro non è che la risultante del rapporto dialettico fra le cinque attenzioni e l'articolazione interna datagli dal soggetto. L'attenzione risultante può essere più o meno forte a seconda di quanto forti ed esercitate siano le cinque attenzioni e le relazioni interconnesse fra le stesse. L'attenzione di un senso può bloccare o inibire l'attenzione di un altro senso. esempio, la vista disgustosa di un cibo gustoso può inibire la capacità percettiva del gusto agendo a priori sul giudizio. Se il cibo viene mangiato, lo stesso e il giudizio determinerà la bontà del cibo. L'attenzione del gusto modifica la percezione del fenomeno ottenuto mediante la vista e le due attenzioni, ricomponendosi in un diverso rapporto dialettico, modificano il giudizio nei confronti di quel cibo. I sensi cui si applica l'attenzione dell'essere umano sono cinque. Così è la considerazione comunemente accettata e comunemente questi siamo in grado di considerare, anche se i buddhisti parlano di un sesto senso, inteso come senso mentale, mentre gli induisti ai cinque sensi aggiungono il respiro come senso superiore ai cinque. Entrambe le posizioni sono criticabili e nello stesso tempo non lo sono, in quanto più che sensi, sono la loro base per la ricerca della conoscenza specifica delle due realtà religiose, come più avanti vedremo. I sensi sono la vista, il gusto, l'odorato, il tatto e l'udito. Cinque sensi attraverso i quali afferriamo i fenomeni del mondo circostante e attraverso il giudizio la descrizione del mondo e formiamo la descrizione del mondo circostante. Ogni senso ha la sua attenzione, la quale determina, nel senso, la quantità di fenomeni in grado di percepire dal mondo circostante. I fenomeni percepiti vengono elaborati dal giudizio nel definire gli oggetti emettitori dei fenomeni e tali giudizi vengono descritti dall'essere umano mediante l'uso della parola. Come direbbe qualcuno, vengono pensati. Nel momento in cui gli oggetti vengono pensati inizia un processo inibitorio nei confronti del senso recettore relativo al fenomeno dell'oggetto considerato. Quando un soggetto assume un posto e una funzione rispetto al soggetto nel mondo quotidiano della ragione, il soggetto cessa l'ampliamento della percezione dei fenomeni e il loro approfondimento nel giudizio. La traduzione del giudizio impensato è il momento inibitore del processo conoscitivo degli oggetti e del mondo circostante. Che tale momento inibitorio avvenga molto presto nell'essere umano è interesse principio del comando sociale attraverso il quale egli può disporre di uno schiavo a proprio uso e consumo. La conoscenza dell'oggetto si ferma nel momento in cui il soggetto pensa la descrizione del giudizio. Quando l'attenzione del senso si ferma su un nuovo fenomeno dell'oggetto mettendolo a fuoco costringe il soggetto a rielaborare il giudizio. Questo fa variare la descrizione dell'oggetto la quale una volta pensata si fissa nel soggetto. Anche questa seconda descrizione per il soggetto diventa assoluta. Come nella prima descrizione, una volta pensata è nel soggetto la ferma convinzione della non esistenza di altri fenomeni relativi all'oggetto, quindi per quanto lo riguarda nessun'altra descrizione dell'oggetto è possibile. Un oggetto, dunque, è sempre un'illusione per il soggetto, non tanto per quel che riguarda l'oggetto in sé, ma per la descrizione pensata del soggetto, sempre limitata dalla quantità di fenomeni che è in grado di percepire, giudicare, descrivere, pensare. Quando l'attenzione del senso può recepire nuovi fenomeni ed imporli all'attenzione ai risultanti del soggetto? Quando questi, per una qualche ragione, sospende il giudizio sull'oggetto stesso. Sospendere il giudizio significa percepire i fenomeni dell'oggetto attraverso l'attenzione dei vari sensi o di uno, senza che tale percezione, passando attraverso il giudizio, si trasformi in descrizione e, per questo, pensata. Pratica estremamente difficile in un sistema sociale avente come fulcro la parola scritta sulla quale costruire le sue truffe, i suoi inganni, il potere di possesso di schiavi. Padre della sospensione del giudizio e lo scetticismo. Per qual motivo devo essere certo della collimazione fra la mia descrizione dell'oggetto, determinata dal giudizio e l'oggetto stesso? Oltre ai fenomeni considerati relativi all'oggetto, quanti sono i fenomeni sfuggenti all'attenzione dei miei sensi? Prima della sospensione del giudizio c'è lo scetticismo della descrizione. Un essere umano, all'interno del sistema sociale in cui vive, non può permettersi né la sospensione del giudizio e nemmeno lo scetticismo, in quanto il comando sociale gli impone di prendere una serie di decisioni, chi più chi meno, all'interno del proprio ruolo di schiavo. La soluzione consiste, come mediazione, nel giudizio di necessità. Il giudizio di necessità è quello attraverso il quale si afferma. Pur non conoscendo l'oggetto nella sua totalità, non solo attraverso un determinato numero di fenomeni, ma solo attraverso un determinato numero di fenomeni, c'è la necessità del soggetto di agire nei confronti dell'oggetto. Pertanto, pur mantenendo un atteggiamento scettico nei confronti dell'oggetto, si sospende il giudizio fin tanto che si agisce nei confronti o relativamente all'oggetto. Tale sospensione, che è una sospensione del giudizio, diventa giudizio di necessità nella relazione fra soggetto ed oggetto. Cessata la necessità della relazione, riprende l'atteggiamento scettico o la sospensione del giudizio. Allenare l'attenzione dei sensi attraverso la sospensione del giudizio implica la percezione, attraverso questi, di un numero maggiore di fenomeni, fenomeni per i quali siamo relativamente ciechi in quanto sprofondati nel pensato della descrizione degli oggetti. Da qui nascono tutti gli elenchi, le classificazioni, le numerazioni, di cui il comando sociale si avvolge col solo fine di controllo sociale produttivo, merci prodotti, dei suoi schiavi, i quali, alimentando il sistema attraverso la trasformazione di merci in prodotti, ottengono la fissazione di se stessi all'interno degli elenchi e delle classificazioni. Costringono i propri figli a seguirli nel loro esempio, riproducendo le capacità coercitive del comando sociale, alimentandolo e vivificandolo. I sensi sono specializzati per ogni funzione e l'allenamento dell'attenzione specifica del senso avviene solo all'interno della specializzazione verso la quale il senso è portato. Un ampliamento della percezione sensoria può avvenire soltanto come normale sviluppo del senso. I sensi, come già detto, non sono funzionali soltanto al mondo della ragione, ma sono funzionali anche allo sconosciuto che ci circonda, ed ogni senso nello sconosciuto ha un suo referente. Una volta sviluppata l'attenzione del senso, fenomeni appartenenti allo sconosciuto circostante possono presentarsi al senso. Il giudizio derivante dalla percezione di tale fenomeno è necessariamente monco. Ancora più importante diviene la sospensione del giudizio nei confronti del fenomeno stesso. Di questo non tratterò oltre per ora. Consideriamo il senso del gusto. Il piacere del cibo è determinato semplicemente dal gusto. Per chi ha fame ogni cosa mangiabile o commestibile è buona in relazione ovviamente all'intensità del bisogno di cibo. Il piacere del cibo è dato dal bisogno fisiologico della qualità del cibo, dall'odorato dello stesso e dalla vista. Questi sensi, qui interviene un nuovo fattore, non considerato precedentemente che sarà chiamato senso interno, compongono la loro attenzione convogliandola in una finalità. Nello specifico, l'attenzione del gusto, pur avendo una parte preeminente, non è la sola intervenuta nell'assunzione del cibo avente come scopo la soddisfazione del bisogno fame. Nessun senso, quando deve soddisfare, agire o provvedere per soddisfare, il bisogno di un organismo agisce come univoco nella soddisfazione del bisogno stesso. Chi agisce è l'attenzione risultante dell'organismo, derivata dal rapporto dialettico delle specifiche attenzioni dei sensi dello stesso. Se la gamma dei gusti è limitata, limitata sarà anche l'attenzione relativa al senso del gusto e limitato sarà il suo apporto all'attenzione risultante dell'organismo. Quest'ultima, pur magari essendo ricca di tutte le altre attenzioni, risulterà monca. La grande quantità dei fenomeni gusto percepiti aumenta l'attenzione all'interno del gusto. Con la crescita dell'essere umano, come di ogni altro essere vivente della natura, si crea il giudizio di allineamento fra oggetto e gusto dello stesso. Più ampia è la gamma dei gusti, maggiore è l'attenzione relativa al gusto e maggiore è il numero dei fenomeni relativi al gusto. L'attenzione relativa al gusto, aumentando di intensità, fa variare di intensità l'attenzione generale dell'organismo. Il senso del gusto è un senso prettamente fisiologico. E qui per oggi ci fermiamo con l'attenzione. Andremo avanti la prossima volta. Bene, ho cominciato a leggere l'attenzione dal libro dell'Anticriso. So benissimo chi ascolta e dice ma che cazzata sta dicendo questo, ma che stupidaggine sta parlando. Anna! Come? Sei Anna? No, sono Fulvia. No, ciao Fulvia, vieni. Senti, io ti sento un po' male comunque. Stai a sentire, io ho seguito qua l'ultimo pezzo che è stato in quest'ora. Io vorrei capire una cosa, mi sembra quasi di capire che l'umano a un certo punto è stato deviato da una strada che stavo facendo magari come umano perché è sopraggiunto, diciamo, c'è stato sopravvento di una specie di altro umano che l'ha praticamente reso subito. Sì. Eh, ci siamo? Ci siamo. Eh, e quindi lui praticamente percorrendo questa strada si è trovato adesso, ora come ora, a dover praticamente fare i conti con la morte, con tutte le cose che ci stanno attorno e anche diciamo a usare male i sensi, non so se mi sbaglio, perché appunto è stato diciamo condizionato da un tipo di educazione. Sì. Ecco. Allora io volevo chiederti, se noi potessimo in qualche modo ritornare indietro, rifare una strada, cioè quasi fossimo arrivati a un bivio dove l'uomo a un certo punto ha preso una strada ed è arrivato fino a qua. Sì. Beh, adesso torniamo indietro, prendiamo un'altra strada, prendiamo la strada dove questo condizionamento proprio di dipendenza non c'è più, cioè praticamente potremmo parlare ancora di morte per esempio? Potremmo ancora parlare di attenzione nei confronti dei sensi perché appunto non ci sarebbe neanche bisogno. No, tenendo a futuro, noi parleremo sempre di attenzione, cioè noi parleremo sempre di morte e sempre, mi senti? Sì. Noi parleremo sempre di tutto questo, l'importante non è tornare indietro, cioè non esiste una strada che porta indietro, esiste una strada che porta avanti, cioè io per esempio facendo delle scelte in vita mia, no? Modificando la mia attenzione, modificando la mia capacità percettiva, per quanto è stato possibile, perché io per esempio ho cominciato a fare questo che avevo già 25 anni. Sì. Per esempio se parti da 25 anni hai un risultato, però a mia figlia io ho insegnato questo molto prima, per cui lei molte cose le fa con grande facilità, mentre a me costano molta fatica. Sì, sì, ma io ti sto seguendo in effetti, capisco che noi tutti in questo momento, per chi ha capito qualcosa, si sta diciamo facendo un lavoro di continuazione di percorso. Ma io facevo un'ipotesi quasi per assurdo, quasi per inventando un altro mondo. Hai capito in che senso? Cioè mi piacerebbe capire se avessimo fatto quella deviazione come sarebbe stato adesso l'uomo. Guarda che quando si agisce, quando si introduce delle variabili, capisci, non è che si cambia solo una cosa, si cambia tutto l'insieme che si produce. Sì, sì, infatti. È per questo che ti chiedo se fosse stato possibile, ma non è possibile chiaramente. È un'ipotesi talmente, talmente abbastanza fantasiosa che non saprei neanche farla, capito? Io lo so se le forze che ci hanno messi in ginocchio non fossero mai esistite, noi saremmo esistiti. Cioè che ruolo hanno avuto per esempio quelle forze nella formazione dell'universo, nella formazione della vita? Cioè come sarebbe stato? Non lo so, capito? Non lo saprei fare una cosa insieme. Beh, immagino che non si può fare, però così, sentendoti parlare, a me è venuta appunto questa domanda, perché in effetti se noi parliamo di morte adesso, condizionati come siamo da quello che ci è stato dato a livello educativo, probabilmente senza questo condizionamento chissà la morte come sarebbe stata. Ah sì, infatti, probabilmente avremmo un'altra idea della morte, un altro pensiero, indubbiamente questo. Ma ti dicono solo una cosa, cioè, se invece di vincere i Vangeli ufficiali, no? Avesse vinto i Vangeli gnostici, già il concetto della vita era diverso, però sarebbero stati presi dall'imperatore, l'imperatore era romano, aveva bisogno di altre cose. Allora non era questione dei Vangeli, era questione dell'imperatore, ma prima dell'imperatore a Silla cosa era successo? E prima ancora con la fondazione, gli etruschi hanno ceduto ai romani, se non avessero ceduto ai romani gli etruschi cosa sarebbe successo? Certo. Sì, è tutta la storia praticamente che mettiamo in ballo. Esatto. Sì, sicuramente, ed è una storia che si segue da dipendenza a dipendenza. Esatto. Noi possiamo solo guardare avanti, guardare il futuro che ci viene incontro. Sì, ma è comunque così, sempre per ipotesi, tu nei confronti della morte, così come la viviamo adesso, condizionati come siamo, e poi ragguagliandola diciamo a tutto il discorso del sogno, perché per me è molto vicina, queste due realtà, io lo dico così, non ho nessuna tesi, non ho niente che mi posso tenere, sono molto vicina, secondo me però, tu invece com'è che la vedi questa cosa? Il sogno è un modo di vivere quotidiano, appartiene alla quotidianità anche se è in pretensione alterata, e la morte è una cosa che affronterò quando deve essere, è un passaggio comunque, per me è una cosa positiva, io sono convinto che la morte è un bisogno della specie umana. È un passaggio, ma è un passaggio che non è fisico, ma secondo te è la coscienza? Sì, io sono convinto che vivendo in maniera normale, cioè naturale, senza essere troppo messi in sinocchio, senza essere troppo distrutti, è possibile mantenere compatta la propria consapevolezza alla morte del corpo fisico. Ho capito. E poi alterando la percezione, usando il coraggio dello stregone, usando un modo diverso di vivere, è possibile arricchire il nostro campo vitale, e effettivamente la vita diventa la costruzione del corpo luminoso. Cioè noi abbiamo la possibilità di scegliere di costruirlo meglio ancora. Ho capito. Quando io chiamo il divino per fare quello che mi interessa fare, per soddisfare il mio intento, io lo chiamo per arricchire la mia forza. Cioè io pretendo dal divino il potere di essere, pretendo di aumentare la mia carica vitale, e siccome questo alimenta il divino, questo arricchisce il divino, io pretendo che il divino venga a darmi una mano. Perché allora tu pensi che il fatto che io pretenda questa cosa dal divino è perché io parto dal divino, cioè io sono parte di questo. Esatto. E quindi io pretendo che lui mi dia una mano in questo. Esatto, perché dandomi una mano lui si alimenta. Cioè se io non cresco, Cerere non cresce. Cerere cresce solo se io cresco. Ho capito. Solo se gli esseri dell'universo crescono, cresce anche il divino che è Cerere. Altrimenti se gli esseri dell'universo non crescono, Cerere cessa di crescere. Allora, va bene. D'accordo, io ti saluto. Grazie. Buon proseguimento. Grazie, ci sentiamo. Ciao. Abbiamo sentito l'amica Fulvia, la quale segue sempre con molta attenzione queste letture, anche se sono abbastanza pesanti. Nel libro dell'Anticristo diciamo questo. Noi siamo arrivati verso la fine della nostra trasmissione e come solito aspetteremo i nostri amici che fanno musica quando arrivano. Il libro dell'Anticristo è stato scritto nel 1985, cioè 12 anni fa, e rappresentato il primo passo per la costruzione della stregonaria. Cioè, attraverso la pratica che io descrivo nel libro dell'Anticristo, io ho costruito la mia concezione della stregonaria. Voi non troverete in questa concezione della stregonaria il paganesimo. Parlerete genericamente della... Parliamo sempre della coscienza della Terra, la coscienza del Sole, la coscienza dei pianeti, la coscienza dell'essere natura. Queste sono le coscienze che io ho incontrato immediatamente. Però non troverete nessuna divinità. Perché non trovate nessuna divinità? Perché le tensioni che attraversano l'universo io le vedevo come energia, come tensioni, di energia. È stato soltanto in un secondo tempo, quando io mi sono accorto che queste tensioni in realtà erano esseri viventi. Queste tensioni sapevano dove andare, riconoscevano il loro simile, lo alimentavano, si muovevano in una certa direzione, che ho scoperto che queste tensioni che attraversano gli esseri, che attraversano la natura, sono in realtà le divinità. Sono quelle divinità che noi riconosciamo nel paganesimo. Per cui il libro dell'Anticristo arriva prima di questo. Arriva prima, viene scritto, prima che io riconosco questo. Nel libro dell'Anticristo trovate la persona che cammina per costruire se stessa insieme al mondo, ma non riconosce il mondo che sta camminando per costruire se stesso in quanto divino che chiama l'individuo. Cioè l'individuo è sempre protagonista nel libro dell'Anticristo. Mentre invece nel paganesimo l'individuo è protagonista solo nella misura in cui sa chiamare il divino che lo circonda. Sa essere Cerere, sa essere Venere, sa essere Giove, sa essere il cielo, sa essere la terra. Cioè sviluppa tutti quegli aspetti del divino con i quali riesce a chiamare il divino che ci circonda. Questa è la grandissima differenza che c'è fra il libro dell'Anticristo e il mondo, e invece il paganesimo di cui io vi sto parlando da molto tempo. L'Anticristo stesso, quando vi ho detto che cos'è l'Anticristo, l'Anticristo abbiamo detto che è una microentità formata dalle volontà, dai desideri, dai tensioni, dagli scopi e dagli intenti di tutti gli esseri che ci circondano. Cioè l'essere terra, l'essere natura, l'essere sole, gli esseri umani, gli esseri, gli stregoni, gli esseri magici, gli animali magici, formano questa microentità Anticristo che ha una finalità precisa. Ebbene, tutte le linee di tensione, tutte le linee di energia che attraversano gli esseri, che attraversano l'universo, hanno delle finalità e hanno la capacità di mettersi insieme e di sciogliersi quando raggiungono l'intento. Ogni volta che le linee di tensione dell'universo si mettono insieme per raggiungere un intento, formano delle grossissime coscienze che hanno la capacità di muovere qualsiasi cosa. Per cui cosa succede questo? Che gli esseri umani non è che loro scelgono semplicemente di fare questa o quella cosa, ma sono anche chiamati a fare questa o quella cosa in base alle proprie predilezioni. Per esempio, io sono un apprendista stregone, sto qui a parlare per radio, a farmi tante seghe sull'attenzione. Uno dice, Matteo, chi cazzo te lo fa a fare in fondo? Perché questa è la mia predilezione, questo è il mio modo di espandersi. E quando l'amico dell'antichristo si accorse che io avevo queste tendenze, questa tensione dentro di me, l'ha riconosciuta e l'ha alimentata. Per questo io ho riconosciuto l'amico dell'antichristo, una delle prime entità pagane che ho incontrato. Chiaramente non esiste un'entità pagana storica che si chiama l'anticristo, perché non è mai esistita una divinità di quel genere. Però sono esistite tante divinità in contraposizione al cristianesimo, tante divinità che però erano vecchie, cioè rispondevano a tensioni umane vecchie e le nuove tensioni non venivano riconosciute dalla microentità anticristo. Per cui questa microentità è dovuta alimentare percorsi che erano anche diversi dei suoi, che però portavano i suoi. E questa è l'azione anche degli stregoni, è quella di modificare l'esistente attraverso le tensioni che l'esistenza stesso produce. Cioè se io trovo una persona che è simile a me, gli do una mano, gli do una mano per crescere. Perché? Perché se lei cresce aiuta anche a me. Per cui questo vale anche per un cattolico. Cosa farà un cattolico? Avrà apprezzamento per un bestemmiatore che però si mette in ginocchio e avrà disprezzo invece per una persona magari onesta che però si rifiuta di mettersi in ginocchio. Esistono questi simili con i quali veniamo in contatto e questi simili hanno un loro potere, hanno una loro tensione e hanno una loro energia. E questa energia ha una qualità, ha la qualità di mescolarsi e ha la quantità di svilupparsi. Bene, io finisco qui la trasmissione Magia, Stagonaria e Paganesimo, anche perché la voce me la va via. Io sono Claudio Simeoni, vi ricordo, via delle Vignole 4 Marghera, Venezia e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Ci risentiamo giovedì prossimo, sempre alle ore 15, 15 qualcosina, a parlare di Magia, Stagonaria e Paganesimo. Io continuerò a parlare dei vari paganesimi storici, l'analisi dei vari paganesimi e comincerò a preparare la base per la costruzione del paganesimo moderno, perché vi ricordo che noi andiamo a costruire il paganesimo moderno e gli attori che costruiscono il paganesimo moderno siamo noi, non Mandrake e neanche un altro profeta. e questo è quello che facciamo. Vi ricordo ancora che i vari paganesi stanno riuscendo a organizzare una conferenza in centro a Treviso che si darà il 7 febbraio, per cui vi daremo dettagli molto più precisi man mano a mano che andiamo avanti nel tempo. Arrivederci, a risentirci, a giovedì prossimo. Grazie di ascolto. Qui Radio Gamma, arrivederci ancora.